Dopo che la prima edizione si è conclusa con un grande risultato per noi, cioè il fatto di essere riusciti a coinvolgere e a suscitare interessi in molti ragazzi, proponiamo la seconda edizione del premio scolastico Ettore Marcoli. Quest'anno la traccia che punta sempre a dare maggior possibilità di espressione ai ragazzi va a toccare il tema delle radici e delle ali. Dell'importanza delle radici come radicamento sul proprio territorio, così come anche dell'importanza che non diventino un freno alle proprie aspirazioni. Ci è sembrato un tema interessante, specie in un periodo come questo in cui si denota un'assenza di valore generale, quindi questo lo riteniamo un valore importante e speriamo che i ragazzi possano partecipare con interesse e con entusiasmo. Il premio Marcoli, i ragazzi potranno lavorare fin da subito, potranno partecipare come è stato detto in conferenza adesso singolarmente, dovranno consegnare i lavori entro la fine di febbraio e poi verranno giudicati entro la fine di aprile. Dopodiché il premio sarà materialmente consegnato al termine dell'anno scolastico. L'anno scorso abbiamo consegnato in premio in concomitanza con la festa di fine anno, insomma, con l'ultimo giorno di scuola. Il premio Ettore Marcoli è un premio economico che è stato stabilito nell'entità di 1.500 euro con la speranza che possa aiutare ambizioni e progetti dei giovani partecipanti.